Per il settimo anno consecutivo il Comune di Rocca San Giovanni ottene un prestigioso riconoscimento qual è quello denominato Quattro Vele di Lega Ambiente. Si tratta di un riconoscimento molto prestigioso, dicevamo, anche perché si tratta dell'unica località costiera abruzzese ad aver ottenuto questo riconoscimento. Ma di che cosa si tratta, Sindaco Di Vito? Dunque questo è un ambito riconoscimento che viene dato da Lega Ambiente su base prettamente scientifica in base a dei dati che vengono monitorati anno per anno, mese per mese, che riguarda non soltanto la purezza delle acque ma i servizi che vengono resi ai turisti, la vivibilità del territorio, la tutela del territorio e quant'altro. Quindi, come giustamente dicevi tu, io sono particolarmente felice ed orgoglioso di questo ennesimo risultato o meglio di questo ennesimo riconoscimento che viene dato da Lega Ambiente al lavoro svolto da questa amministrazione per quanto riguarda appunto la tutela dell'ambiente e quindi la difesa del territorio. Noi questo orgoglio cresce se consideriamo il fatto che Rocca San Giovanni è l'unico paese nella regione Abruzzo ad avere avuto questo ambito riconoscimento. C'è anche Scanno con quattro vele ma riguarda il lago mentre noi come costa, come mare siamo l'unico paese nella regione Abruzzo. Approfitto di questa occasione per ringraziare tutti i miei concittadini che con il loro comportamento civico e civile hanno permesso a noi di raggiungere questo traguardo. Quattro vele di Lega Ambiente che poi come ben sai va a sommarsi al riconoscimento che abbiamo avuto anche quest'anno della bandiera blu e a tanti altri riconoscimenti che abbiamo nella tutela dell'ambiente. Bisogna crederci, bisogna al territorio, alla difesa del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente, bisogna crederci. Noi ci abbiamo sempre creduto e lottiamo, abbiamo lottato, lottiamo e lotteremo tantissimo per il raggiungimento di questi obiettivi perché siamo convinti che il nostro deve essere un turismo basato sulla qualità e non certamente sulla quantità anche perché la caratteristica geografica della nostra costa, del nostro territorio non permetterebbe un turismo di quantità ma soprattutto un turismo di qualità. All'inizio della mia amministrazione, delle mie amministrazioni perché mi trovo al secondo mandato abbiamo fatto una scommessa che era quella di fare in modo che il turista che venisse a visitare la nostra costa e quindi a godere delle bellezze della nostra costa, bellezze completamente naturali che noi abbiamo mantenuto così come tali potesse anche raggiungere il centro storico di Rocca San Giovanni e visitare ed ammirare anche il nostro borgo che tu sai benissimo è uno fra i borghi più belli d'Italia. Questa scommessa l'abbiamo vinta perché se consideriamo che l'anno scorso abbiamo avuto circa 36.000 presenze in più rispetto all'anno precedente vuol dire che questa scommessa appunto è stata vinta. Per quanto riguarda il borgo sarà protagonista in estate di tanti eventi come confetudine? Sì, stiamo approntando proprio in questi giorni il cartellone degli eventi estivi e come ogni anno sarà ricco di grossi eventi. Ci saranno degli eventi di qualità, mi riferisco in particolar modo alla dodicesima edizione della Rassegna Jets che oramai è diventato una chicchia della nostra amministrazione dei nostri eventi estivi. Ma oltre a questo ci saranno tanti altri eventi di qualità e tanti altri eventi che vedranno protagonisti gli abitanti di Rocca San Giovanni perché a me piace che durante il periodo estivo i miei concittadini non siano soltanto spettatori ma siano primattori degli eventi estivi.